L'accensione delle luminarie rigorosamente a led hanno vestito a festa il centro storico della città dei Sassi. Tutto è pronto per accogliere domani, momento clou delle celebrazioni in onore della protettrice Maria Santissima della Bruna, il tradizionale carro di cartapesta realizzato per la 624esima edizione della festa dal maestro materano Andrea Sansone e ispirato quest'anno al concilio Vaticano II, un evento per la chiesa e per il mondo. Cresce dunque l'attesa per il giorno più lungo dei materani, un fitto programma di eventi hanno anticipato il momento più atteso delle celebrazioni patronali. Un mix di religione, storia, cultura e tradizioni. Anche quest'anno sono migliaia di turisti giunti nella città dei Sassi per assistere alla processione con lo sfascio del carro. La prima festa della Bruna fu istituita da Urbano VI nel 1389, mentre il carro trionfale in cartapesta che porta in processione la statua della Madonna fa la sua comparsa sul finire del 1600. Il tema, a cui si rifà l'artista cartapestaio tratto dalla Bibbia, viene deciso dalla Curia e valutato insieme al comitato Maria Santissima della Bruna che ha in carico l'organizzazione della festa. Il progetto vincente viene reso pubblico nel mese di marzo e da quel momento in poi la costruzione procede coperta dal più totale segreto. Il carro sfila trainato da muli nel tardo pomeriggio del 2 luglio, seguendo un percorso ben preciso che lo porterà in piazza Vittorio Veneto intorno alle ore 22, dopo aver compiuto i tre giri propiziatori della piazza che simboleggiano la presa di possesso della città da parte della Santa Patrona. Verrà abbandonato dalla sua sorta e consegnato ai cittadini di Matera per essere quindi assaltato e distrutto in modo da rinascere ancora più bello l'anno successivo. Ma la giornata di domani comincia all'alba con la precessione dei pastori e lo sparo dei botti. Altro momento legato ai tradizionali riti religiosi e particolarmente sentito dai fedeli. Intanto ieri si è tenuto un nuovo vertice in prefettura per la completa definizione del servizio d'ordine. Il corridoio di transenne in piazza Vittorio Veneto, così come previsto inizialmente, sarà evitato e la situazione in piazza Vittorio Veneto sarà praticamente come quella dell'anno scorso. E come per le scorse edizioni, oltre ai cavalieri saranno le forze dell'ordine a proteggere il carro, assicurando l'arrivo integro fino al momento dello sfascio. Tra le altre misure, la distanza di 30 metri dalla folla per la collacuazione delle batterie dei fuochi da far scoppiare alla processione dei pastori. Militari, carabinieri, guardia di finanza e polizia presideranno la città in piena sfida per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019. Matera ce la metterà tutta affinché la festa si svolga in piena sicurezza. Grazie. 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 Grazie.